Io sostengo, come ho detto, ai funzionari ispettivi, alla polizia e ASL, ai medici che sono intervenuti, ai veterinari che erano presenti, che per me è molto strano. Ciriaco Petrilli, titolare dell'omonima cooperativa che gestisce in provincia 22 centri di accoglienza e circa 800 profughi, non ci sta e smonta lo scandalo del verme trovato nel pollo servito per pranzo presso il centro di accoglienza Le Cupole di Ariano. Ritengo tuttora che è un corpo estraneo preso e messo in allarva di altra provenienza, non dal cibo che si porta a somministrare, che entro un'ora non di più dalla sua preparazione messa nelle teglie, messa nei contenitori specifici, seguendo la corretta direttiva del caldo, la linea del caldo, nel rispetto, viene portato alla struttura, sporzionato. È arrabbiato, contro di noi ci ha detto, un vile tentativo di beffe e danneggiamento, una macchinazione costruita per creare problemi. Insomma, la storia del verme che passeggia sul pollo è secondo lui una storia creata ad arte per gettare fango sulla sua cooperativa. Questo verme come ci è arrivato su questo pollo? Io non lo so, questa domanda la rivolgo io a voi e ad altri. Io chiedo di sapere come è possibile, tecnicamente, un pollo per la sua cottura ha bisogno di 200 gradi, le temperature di forno vanno a oltre 200 gradi per la cottura di questo pollo. Arrabbiato ma anche fiducioso nel lavoro che stanno svolgendo gli inquirenti, il video che sta facendo il giro del mondo sui social è nelle mani di chi sta indagando per fare luce sulla vicenda, polizia e ASL. Ma è lo stesso Petriglia confermarci la sua intenzione di sporgere querela contro i gnoti per quanto accaduto. Vi è collaborazione massima con le istituzioni, sia con la Questura, sia con l'ASL e noi siamo qui pronti a dimostrare, a vedere dai referti che loro usciranno la tranquillità.